Italia 1! I Pokémon più famosi! Cerca un allenatore di Pokémon che si chiama... E quelli più rari? Il regno di Mewtwo inizierà presto! Per la prima volta insieme! I cazzi! Impazza la Pokémon mania! Finalmente su Italia 1! Ce l'abbiamo fatta! Pokémon, il film! In prima visione sabato 28 febbraio alle 21!